buonasera e benvenuti amici di faner qui allo sport city dove una di fronte all'altra ci sono atletico fiumicino e la pisana a calcio 8 per la quinta giornata di serie a della lega a calcio a 8 dici borneti poi passati scibilla recupera il pallone e per poco non riesce a beffare egizi dopo un errore difensivo dell'atletico fiumicino a borneti in avanti poi ferri prova a giocare ma massari riesce a recuperare il pallone va a servire proprio scibilla che entra in area di rigore ancora la sfera di rimanelli a massari a massari con l'aiuto della traversa sfrutta il rimpallo e fa 1 a 0 la pisana cari il numero 8 che appoggia su ammassari che prova il tiro ribattuta da egizi prete ancora scibilia vertice alto dell'area di rigore appoggia indietro sull'alli che va con il sinistro palla che termina fuori di pochissimo l'alli ferretti tempo sulla posizione di canelli però è ferretti che cerca la conclusione gizzi ci mette le mani via in avanti ancora massari che la tocca su scibilla a spazio serve chianelli chianelli alza la testa la mette al centro l'inserimento perfetto di scibilla che fa 2 a 0 per giocarla a 2 la tocca infatti maramao a ferri si amore la barriera palla ribattuta ancora ferri e palla che termina poi fuori o da chianelli punizione ancora per l'atletico fimmicino battuta velocemente da maramao su fognani ancora maramao con il destro filonardi rischia ma riesce a far la sua gioca indietro ancora laurato laurato con il destro laurato palla che termina di poco alta lì che torna indietro su chianelli chianelli palla lunghissima a cercare scibilla liscia il pallone scibilla uno contro uno con egizzi scibilla egizzi gli dice di no cervini lungo a cercare proprio scibilla che appoggia di tacco ad ammassari va a giocare sul laurato ancora laurato prova il destro laurato egizzi si distende e la fassura in due tempo attuta sul laurato velocemente il calcio d'angolo laurato in area di rigore prova un dribbling laurato il tiro l'illusione del gol e palla che termina fuori di punizione per l'atletico fimmicino due uomini in barriera per filonardi anzi tre va maramao con il destro parte maramao filonardi ci mette i piedi per dire di no ammassari porta la sfera sul sinistro ammassari ancora egizzi ancora una volta che dice di no dei suoi piedi e maramao con la fassura appoggia sul ruggeri ancora ruggeri chiuso da chianelli arriva anche il triplice fischio dell'arbitro la pisana batte atletico fimmicino per due a zero e si porta momentaneamente al primo posto in classifica